Musica E ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video Oggi siamo qui e vi faccio vedere questo nuovo recupero in Blu-ray E sto parlando del secondo capitolo di Mission Impossible 2 Andiamo ad aprire il Blu-ray togliendo la plastica E questa ragazzi è l'immagine di copertina Tom Cruise Mission Impossible 2 Ecco qui Tom Cruise in copertina, in moto e qui con questo profilo laterale Qui abbiamo il laterale Mission Impossible 2 Qui abbiamo il retro, eccezionale, pura avventura, dinamica, vivetela Qui abbiamo la trama, i contenuti speciali, eccolo qua che sono abbastanza ragazzi Con immagini del film e varie informazioni E questo ragazzi è il retro Andiamo a vedere l'interno Molto spoglio Con un semplice disco Qui Mission Impossible 2 E niente ragazzi, mettete un piacere, commentate, iscrivetevi al canale E noi come sempre ci vediamo in un prossimo video Ciao a tutti belli